Dov'è la fornace? Ah ecco, dov'è, 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 dov'è! No, è fastidioso, eh! Tipo negli Hunger Games che mi fanno così, guarda! Dio, che fastidio, ok! Va bene! Non ho questi problemi! Ok, registriamo tra... adesso! Ok! Faccia la sua intro! Io? Vai! Buon salve tutti e casi sono con noi, è venuto in questo nuovo video dell'arco in femminile insieme a Vale! Ok, mi... Che energia! Questa è un... un tripudio di energia superba! Che solo lei può fare... ok, allora... Basta! No, adesso ci tocca la mia intro prima, no? Vai! Cioè, lei lei è un latino più alto in quello più basso, cioè, ovviamente! Ho voglia di fare parkour, non so perché, sto saltellando di qua e di là... Ok, vai! Vai, sto, mi dico! Oddio! Che se mi uccidevi, Dio santo! Oddio, dico! Ok! Un mico, voglia a tutti! Siamo al decimo episodio dell'arcore con Kenoya Poco a poco ho chiesto su Facebook quale video oggi, adesso, in futuro, non si sa Vi sarebbe piaciuto vedere E avete votato l'arcore femminile Non avevo dubbi di questa cosa Comunque eccoci qua per continuare la serie Che abbiamo fatto nell'episodio scorso? Abbiamo scavato Sì abbiamo scavato che vedrete tutto in questo video perché farò un miscuglio di video Tutto insieme Non saprete dove guardare Non so se sarà più emozionante vedere io che esplodo quasi per morire per via di un creeper Oppure vedere adesso cosa combineremo Leggendo i commenti Finalmente ci avete detto che se cavolo di selle non si craftano Finalmente Abbiamo capito Sono finiti Dimmi dimmi Dici Io dicevo che adesso cuocerò il ferro che abbiamo trovato E basta Poi non capisco perché abbiamo una fornace fuori e due dentro Mamma mia che organizzazione Quella è la mia idea Comunque io vado a prendere il cactus Fai vedere il ponticello Fai vedere il ponticello No No Scendo così Non lo vedranno Non lo sa Oddio 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 Automatizzata Inceneritore Ma ragazzi Il ragazzo che ha scritto Se facciamo sta cosa Cioè diventa più grosso l'inceneritore Che la casa nostra Che 40 metri quadri No seriamente Quindi per adesso L'idea è carina E mi piace Però per adesso Secondo me è ancora troppo presto Ok Quindi Che stai facendo lì giù? Non lo so Aspetta dovevo fare qualcosa Mi sono dimenticata Ok mi sono ricordata Volevo prendere il grano Volevo prendere il grano Perché è più Noi siamo persone giovani Quindi ci continuiamo Aspetta Come faccio? Ho dei problemi di memoria Secondo me mi suicida No che be' Stavo quasi per suicidarmi Dico Non posso mettere il cactus lì? Serve della sabbia? Dobbiamo Oh no C'è della sabbia in casa? No Forse sì Boh Sì 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 Cioè che chiulo Cioè ho davvero Che chiulo? Che chiulo enorme Allora Non è vero Non c'ho il chiulo enorme In questo modo Interessante Anche mi stavo autoffendendo Ma no Ok Ma c'è chiulo apurezza Ma Che cazzo Sta divulgando questa conversazione Non dovrebbe essere Ok no Cambiamo argomento Non lo mette Mi sto trollando Aspetta Vorrei fare Faccio una cesta Qui vicino Ci metto Sì 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 Cosa fai? Raccontaci Allora No niente Io sono una persona Spacco a mani nude Una botola Tu racconta Quello che fai Voglio mettere un accesso Vicino al Nostro orto Così ci mettiamo Tutti i semini E anche tutto il grano E siamo proprio Mamma mia che brava Che brave Allora Ma perché il cactus Tipo mi odia? Non riesco a piantare Un cactus Sono in Cioè Non riesco a piantare Lo devi mettere Sulla sabbia il cactus Lo sto mettendo In tutte le posizioni Sembra un kamasutra Ok basta Ma No lo so No era bello Lo sto girando Rigirando Dovremmo dormire Tipo Perché è pericoloso Ah comunque Ci hanno detto pure Di 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 togliere gli alberi Sai cosa faccio? Vieni qua Diamo fuoco agli alberi Non so scherzare No No Dai vieni Ma il legno Ci serve E ma danno fastidio No 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 Allora Tu non puoi fare malo alla natura Nel prossimo video Ditemi se dare fuoco O no agli alberi A me è attenzione Molto come cosa Comunque ditemi se dare fuoco O no agli alberi Poveri alberi Sono loro Comunque La cosa del pigiamino No E non spoilerare il video Guarda Non spiace Piace al cactus Ok 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 È ovvio Perché deve avere lo spazio Il cactus Non puoi metterlo con I cosi Intorno Serve altra sabbia Io non ne ho No Basta così Tac Grande Non è vero Non è vero Non è possibile Adesso lo rompi Adesso lo rompi Ah Rimettilo Eh grazie Ecco Ok Però se io chiudo qui Così Non dà fastidio Vero No Però è bruttissimo Lì sotto Che è Mezzo giallo Mezzo blu È un po' Indecoroso 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 Guarda 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 Ahah Ahah Sei contenta Ahah Ti basta Ok Ok Ho fatto la botta nera Come ci è stato detto Senza il tuo aiuto Guarda Non sarei riuscita Proprio A fare nulla Quindi Grazie Grazie Prego Prego Una sola Ok Dai dormiamo Prima che spawnano Tutti i mob Ok Andiamo Grazie Prego Ok Ok basta La smetto Ah Sì Lasci la porta aperta Mi raccomando E io ho la coda Quindi Lasci una porta aperta Ok Hai la coda Così ti dice da me Chi lascia la porta aperta C'è la coda Senti Hai altro cibo Per questa povera signora Ah Vabbè Proprio perché sei tua Oh vedi Ok Ah Dopo vado a fare un trucidio Di vacche Però Un trucidio Sì Abbiamo del Ci sei Andiamo a raccogliere i fiori Giusto giusto I fiorellini I fiorellini Non ti ammazzare Il mio ponte serve per non farsi male Tu Vuoli così Oddio non mi sono avvelenata Non puzzo Oddio Oddio Anzi giusto Facciamo Tipo Sfolla 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 le vacche Sfolla Due giusto Possiamo ucciderle No 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 Facciamo la tattica dei furbi Fali accoppiare tutte e due Poi le ammazzi tutte e quattro Oh malvagia Aspetta prendo la E' dentro la cesta Dentro la cesta Dentro la cesta Dentro la cesta Di fianco a te Ok Brava 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 Visto che organizzazione Vai accoppia Fate l'amore Ok io mi giro Ora quelle due lì Fate fatto? No Guarda che si baciano Si trapassano Cosa No perché tipo Guardale Guardale Guarda guarda Vedi che Ovviamente C'è una cesta che diventa una cosa sola Si io censuro ovviamente In queste parti E i semi li hai? No li ho io Sono dentro la cesta sempre No ce li ho io Ok Tisore Vieni qua Pucci pucci Vieni qua Brava Guarda tutti i polli attorno Oddio sono una signora polla La pollaia Perché ho l'esperienza per aver fatto Guardali guardali Che miscuglio Che orgiata Che orgiata Adesso li uccidiamo Ancora quelli continuano Fanno pure i preliminari Guardali Ha fatto un uomo Togliti porco E' finito Si ho finito No guarda perché questo è uscito Qui Oh come ho fatto a salire Guarda No Eh vabbè non serve Anzi Guarda metto le trappole No non le posso mettere Si ciò Li ammazziamo Comunque potremmo tipo uccidere adesso Le nostre amiche Ok dimmi Uccidiamo le nostre amiche Senti Io vado a prendere i fiorellini Facciamo i pigemini Come ci han detto Quindi Eh fai vedere il commento Tipo ora Ehm Puff Anche l'effetto sonoro Fatto in casa Eh io c'ho l'effetto Sai che il pollice Nell'effetto Tutti mi chiedono Dove hai preso l'effetto del pollice L'ho fatto io con Così capito Oddio No Che figo Eh Grande Complimenti Poi l'ho amplificato con audacity Oddio Che sono sti cosi Un fiore Questo ci serve Papà vero Ehi papà Canta la canzone I papà veri Sono anzi Non mi ricordo più Ok Ok Quanti cosi Quanti cosi hai Ma non sono questi Sono quell'altro Si sono questi Sono questi Fidati Guarda mettili Nella Nell'inventaggio Cioè lì Nel coso del craft Beh io li ho raccolti tutti Mettili nel coso del crafting Perché noi non prendiamo Pure un po' di Di pecorelli Ascoltami No Mettili Mettili nel coso del crafting I papà veri lì Vieni pecora Oh mi ascolta Mi ascolta Sto aggiorando di proposito E lo è sicato Dimmi dimmi Mettili nel coso del crafting Andiamo Papà veri Ora con questi rossi Poi li mischiamo con il buon mille E facciamo il rosa Ok Così c'è il tuo bel pigiamino Però voglio Voglio un cibo Dammi cibo Basta Questo è l'ultimo Che mi rimane Ti sto prosciugando Ok dai Ok dai Andiamo a fare i pigiamini Subito vieni Vieni corri 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 Ma ce l'abbiamo la pelle Sì Ah andiamo a prendere la pelle Grazie Grande Grande che mi hai ricordato Se no sarei arrivata tipo là sopra Senza nulla Pelle però non Non credo ne abbiamo tanta Ma hai ammazzato le vacche E due ne ho ammazzate Quanto te ne ha dato Due Oddio che è No hanno sparato Non so Così ho paura Ho sentito un bot Allora ne abbiamo 24 Potrei uccidere anche altre due mucche Alla fine Tanto poi aspettiamo che crescono queste Siamo a posto Giusto mucca Mori No non mi ha dato nulla Tu Mori Ok Non mi ha dato nulla No aspetta Non mi ha dato Non fa niente Non fa niente C'erano quelle C'erano quelle Non è successo niente C'erano quelle C'erano quelle Andiamo a casa Mi ha dato Su due mucche Mi ha dato sei bistecche E però zero di pelle Proprio Vabbè L'importante è che non tocchi i vitellini Perché se tocchi pure quelli Stiamo a posto Proprio No poi non abbiamo più le vacche Lo sai Il cacchio E così Punto Perché tu devi usare la storia alternativa Perché io non sono mai insieme Come il tuo ponte No il mio ponte è bello Una pecora che si ingroppò una gal Censura Perché devi notare queste cose Io censuro tutto C'è le noto e poi le censure Figa come queste Senti allora Che è? Che noi appena guadagniamo No voglio io l'esperienza Sì è tutta mia invece Guarda c'è anche qui La prendo io La prenderò io Sì Quanta ne hai? 25 Anche io No Vabbè La barretta quanto sta? È quasi piena Ma fa un culo Se bisogna di più Ok Allora Come si fa? Dobbiamo fare i pigiamini Allora Innanzitutto mi serve altro cibo Ne abbiamo Sì Sopra arriva 26 Sopra arriva 26 Sopra arriva 26 Guarda che c'è l'altro cibo Nella cesto Prendilo Se ne hai bisogno No ma io devo Sare di esperienza Quindi devo arrivare a 26 Ma vai via Allora 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 Dov'è la crafting? Sta fuori? Sì Io salgo sulla crafting E poi Dobbiamo fare Portami la pelle Per cortesia Allora E io c'ho solo due pezzi Allora Per fare il coso Allora Allora aspetta Devo guardare Un attimino qui Rosa Come si fa rosa? Hai presente? Devi farlo col bon mille E con quel coso rosso Che hai preso Ma io bon mille ne ho Sì No Dettelo io Ne ho 6 di bon mille Tu? Buono Io ho 11 ossa E la madonna Ok Allora Questo No Sono un minimissimo Mi coso Mi coso Mi coso Per il 26 Cattiveri Qui non c'è nulla da prendere Ok abbiamo 10 coloranti Allora Vediamo i pezzi Se sono giusti Ne ho 26 Ma quanti ve ne hai dati? Nessuno Ehi Pronto? Dico a te Ehi No Dico di pelle Quanta ve ne hai data? Due Due Quindi allora Solo quello Facciamo Sì 26 Ho battuto la vale Basta Ok Tanto già avevi vinto quindi Allora Facciamo la maglietta Rosa Tutto rosa Mi raccomando rosa Ne faccio due Pure a te Ma io non la volevo rosa Te la fai tu Allora te la fai di quel colore Io faccio quello che mi hanno detto nei commetti Perché io sono una persona Brava Brava Giusto Allora facciamo pure i pantaloni Ce la facciamo? No non ce la facciamo Riusciamo a farci solo la maglietta Ma scusa ma non ce l'avevamo già la maglietta in pelle? No ce l'avevamo i caschi mi pare Ma perché non la riesco a raccogliere? Ok C'è questa piuma di gallina che Disturba la quiete pubblica Allora Così La prendo io Perché si sente so Oddio Giubba di cuoio tinto Giubba di cuoio tinto No la metto No la metto Eccola E dai metti la No 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 Il pigiamino Cioè noi ragazze dormiamo con Senza questi Prendi sti i cosi per piacere Anzi prenditi queste e fattela tu Ok noi ragazze dormiamo così la sera Cioè almeno dormo così Maglietta e basta Io no io ho mio pigiama Io sinceramente ho mio pigiama Di che colore? Giallo No non è giallo è grigio È grigio Ok vale Adesso sto immaginando lei con C'è un fiore giallo Visto che li hai presi prima Certo Ne ho quanti ne vuoi Posso 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 Ok io c'ho la giubba rosa Ok A posto Siamo tutti contenti Adesso do pure fuoco alle craft No no Ok a posto Vediamo Vediamo lei Oddio Sono fashion Sono luccicante Mi illumino al buio Ok va Lei si illumina al buio Ok Ok devo fare un po' di scena Facciamo la passarella Andiamo a sfilare sulla passarella del tuo ponte Oddio Aspetta 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 Cosa mi tocca fare? Togli 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 la pala Buttala Ok Vai Oh Sto spreco di Non così Non Sono morto No Oh mio dio Mamma Oddio Oddio Togli ti faccia Oddio Oddio Mi passi qualcosa Per tu No Porca miseria Sono credito pure io Adesso Sare sul mio cubo Facciamo il ritmo Vieni qua Vieni qua Niente Ho la mia terra Perché non si riesce a fare quella cosa che avevi in mente Tanto Ok Sì ma tu ci metti la grave Ma si disturba Oddio Ok Passami qualcosa No ti vomito un po' di terra No no Lì qua Dove Dove l'hai buttata? Eh sì brava Mi Mi dicevo No ma non le prendi Vuole le devi prendere Dai Ok Le peggio modelle del mondo Oddio Oddio Ma fai No 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 ma furba Vai via Dai Salire Salita Ok posso rubarla A posto Oh C'abbiamo fatta Certo che mettere delle stagionate qui no È troppo 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 Intelligente Comunque dobbiamo Spirare Guarda che non mi sono Ok Aspetta 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 Scendi Scendi Ok Adesso non cado più Io voglio togliermi qui Ok Ok Ora sono molto più Ok Ma basta Voi A posta Basta Lei va Sono morta No Oddio ma sono cacchata Sono Pensavo di essere Quanto Basta Ok La sfidata più sexy Del mondo Io so così Ok Basta Dopo questo episodio Veramente folle Io mi sa che chiudo il video Meglio Spero che vi sia piaciuto Cioè Però è figo il cappello che c'è Tu Lo voglio Dammelo Aia Non faccio Della mia schina Ah sì Ok Ok Dopo questo episodio Pazzo È tutto Spero che vi sia piaciuto il video Passate sul canale Di Kenoia Perché fa tanti video Più seri Mi ha sembrato di capire più sexy No no Ho detto seri No Senti Non dirò mai una cosa del genere E niente Vostate anche sul suo canale L'ho già detto Lasciatevi tanti mi piace Per il proseguo E al prossimo video Di questa Pazza Streghe Oppure Ah vero Qui ci sono i termometri Vi ricordiamo sempre Che i termometri Vanno usati Come già benissimo Sapete Ad un prossimo video E ciao Ciao Aspetta Io mi devo lanciare Uè 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 Uè